Maria Iosefava, Libera Piemonte ha fatto molto per la giornata di oggi, ma più in generale sul tema del sequestro e della riconsegna alla cittadinanza italiana dei beni sequestrati alla mafia. Sì, oggi per noi è un giorno bello, un giorno felice. Libera ha da 25 anni un ruolo di accompagnamento, di stimolo, di pungolo sul tema dei beni confiscati. Da quando 25 anni fa abbiamo promosso la legge che è poi diventata la 109 del 1996. Per questo bene è tre anni che ci battiamo, che sollecitiamo le istituzioni, che facciamo la nostra parte, che è quella anche di riportare il percorso di questi anni nelle situazioni che ne hanno bisogno. Qui abbiamo dormito, abbiamo presidiato, abbiamo fatto eventi, abbiamo invitato le istituzioni e oggi è molto bello perché lo Stato, lo Stato tutto, dalle forze dell'ordine, appunto alle istituzioni, ai cittadini, alle associazioni, oggi hanno rappresentato con forza che insieme, in maniera sinergica, mettendo le forze migliori appunto dello Stato insieme, si possono vincere le mafie. Oggi è un giorno nel quale ha vinto la democrazia e ha vinto lo Stato.